sogni visioni notturne mi visitano sempre da quando mio figlio ha armato il suo esercito e se ne è andato nella terra degli ioni desiderando devastarla ma nessuna visione fu mai così nitida come quella di quest'ultima notte te la dirò mi apparvero due donne in vesti eleganti una indossava abiti persiani l'altra vestiva la dorica li avevo innanzi agli occhi più alte e più imponenti di ogni donna presente di una bellezza senza ombre erano sorelle nate dagli stessi genitori ma a una era toccata in sorte l'eredità della terra greca all'altra quella dei barbari mi parve di vedere che erano in lotta tra loro nemiche l'una all'altra mio figlio se n'era accorto e cercava di trattenerle di ammanzirle le aggiogò entrambe al proprio carro stringendo le cinghie sul collo una sergeva come una torre orgogliosa di quella bardatura e offriva docile la bocca alle briglie ma l'altra recalcitrava ed ecco che con le mani fa pezzi finimenti del carro si strappa via al morso con la forza e spezza metà al gioco cade mio figlio e il padre gli è vicino lo compiange Dario ma non appena lo vede esserse si straccia le vesti dal corpo questa che vi ho narrato è la mia visione di questa notte appena mi sono alzata ho immerso le mani nell'acqua di una limpida fonte e sono andata all'altare col braccio teso nel gesto del sacrificio perché desideravo versare in sacrificio agli dèi che allontanano il male una libagione secondo rito ma vedo un'aquila che fugge verso l'altare di febo e resto immobile ferma in un terrore muto e subito miei cari appare un falco che si avventa in volo sbattendo le ali e con gli artigli le strappa le piume dal capo e l'aquila non faceva nulla s'acquattava soltanto offrendo il corpo allo strazio questa visione non può che spaventarci me che l'ho vista voi che l'ascoltate perché sapete bene che mio figlio se vincerà sarà un eroe ammirato ma se sarà sconfitto ma lui non deve rendere conto alla città purché si salvi resterà il signore di questa terra e possa tutto finire bene io compirò ogni rito secondo le tue prescrizioni in onore degli dèi e dei miei cari sotto la terra non appena rientrerò nel palazzo ma prima voglio sapere una cosa miei cari ditemi dove sorge atene in quale terra lontano verso occidente dove il sole divino svanisce nel tramonto e perché mai mio figlio desiderava fare di quella città una sua preda grazie a sonia bergamasco che ci ha appena restituito il sogno della regina tossa dal primo episodio dei persiani di eschilo nel sogno la prima battuta che anticipa il racconto delle due donne europa e asia idealmente che dice la regina erano della stessa stirpe erano sorelle non so se sia un tocco collegato al fatto che a tossa e donna e quindi per una battuta come dire concilia i due mondi che immediatamente dopo appaiono in conflitto e che un re suo figlio cerca di serse cerca di domare ma non riesce a domare quella che rappresenta l'europa recalcitra e quindi il presagio il sogno e negativo e funesto preoccupa la regina e carica di ansia questo racconto che lei fa al coro dei vecchi fedeli che sono rimasti nella regia di susa mentre serse si è recato in occidente a combattere contro i greci il secondo punto importante è la domanda su cui Bergamasco è rimasta in sospeso perché la regina chiede chi sono questi greci come lei vivesse in un assoluto di sovranità di impero non deve rendere conto a nessuno è chiara la battuta centrale anche se mio figlio tenera sconfitto lui è sempre il re il teatro occidentale ai suoi inizi con un testo in cui un poeta greco eschilo occidentale mette in scena tutti protagonisti orientali della persia fino al 1935 il nome dell'iran era persia e la prima protagonista del teatro occidentale femminile e orientale ed è questa regina tossa e tra luce dietro il sogno e il suo racconto una serie di elementi sono quelli che ci fanno pensare che sì un poeta greco ha prestato ovviamente la propria impressione attenzione al sentire ai modi al parlare della regina orientale ma se facciamo attenzione c'è una sorta di tentativo di dire che in fondo Europa e Asia sono sorelle e un sovranismo una convinzione della proprio potere assoluto e chiuso così forte così totale che la regina alla fine chiede ma chi sono questi greci dove stanno è l'occasione per fare la prima battuta del teatro antico sulla democrazia rispondono alla regina i greci stanno lontano e non hanno le chiede chi è il loro capo di nessuno si dichiarano sudditi a nessuno sono sottomesse e la prima dichiarazione che delinea la differenza fra l'idea e l'orgoglio della democrazia occidentale e l'idea e l'orgoglio dell'assolutismo orientale questo testo per molti versi straordinario parte con una parodo il coro dei vecchi del coro dove ci sono 17 nomi propri tutti i capi dell'esercito persiano vengono nominati ci si vanta del proprio oro della propria ricchezza del proprio assoluto strapotere c'è una nota di ansia minima che la regina riprende e intensifica raccontando il sogno che porta a chiedersi ma se sono così ricchi e potenti perché non tornano perché non abbiamo notizie di questa armata persiana partita tanto tempo fa contro la grecia anche qua si delinea un'idea della storia diversa perché nel racconto della battaglia di salamina che segue di poco non c'è fatto nessun nome nessun eroe greco nessun protagonista di quella vittoria storica viene nominato per i greci la vittoria è collettiva non ci sono nomi per gli orientali la vittoria aveva 17 nomi che puntualmente nel finale serse comunica che sono finiti e ancora l'orgoglio del loro la regina il lapardo ma anche la regina fanno cenno allo sfarso e la ricchezza della regia di susa la persia ricca la grecia c'è solo l'argento nelle tre battute successive la regina chiede cos'anno hanno meno di noi hanno solo miliere d'argento ecco questo ci ricorda che mentre omero sostanzialmente non differenziava troppo greci e troiani e la tragedia greca che comincia a porre col suo primo testo e poi nel tempo in un arco di produzione che apre e chiude con una tragedia in cui è protagonista l'oriente perché baccanti nel 405 vede un'orda di seguaci di dioniso all'attacco delle leggi dei modi della ritualità della religione dell'essere stesso di una città greca e vincono loro in quest'arco di produzione 462 405 ci sono ben 11 casi in cui ci sono donne orientali dato il nostro titolo io guardato al femminile che sono protagoniste o coprotagoniste o stanno nel coro per esempio le fenice vengono dal libano e sono di passaggio in grecia figenea in tauride non ha personaggi che non siano greci ma la terra e asiatica gli usi i riti i teschi che figenea racconta vengono appesi nel suo tempio i riti di questa sacerdotessa sono riti delle sacerdotesse di tauride molto più noti altri casi ora immediatamente dopo i persiani poco dopo eschilo manda in scena una tragedia ardua alla lettura e ardua al lato della rappresentazione di uscimonio vadia 8 9 anni fa a restituire le supplici di eschilo partiamo dal prologo delle supplici 463 zeus protettore dei supplici guardi con occhio benigno il nostro stuolo partito per nave dalle bocche sabbiose del nilo abbiamo lasciato la terra di zeus contigua alla siria e siamo in esilio non perché condannate da un voto pubblico per un delitto di sangue ma perché fuggiamo per nostra scelta degli uomini rifiutando le nozze empie coi figli di egitto danao nostro padre consigliere e capo della nostra sedizione con questa mossa ha realizzato la sofferenza più decorosa una rapida fuga sul mare e la prodo alla terra di argo dove ha avuto origine la nostra stirpe che vanta come progenitrice per opera del tocco e dal soffio di zeus la giovenca che fu sconvolta dal tafano a quale terra più amica potremmo arrivare con le armi dei supplici i ramoscelli coperti di lana o città o terra acqua limpida e dei del cielo e voi dei vendicatori che occupate le tombe sottoterra e tu per terzo zeus salvatore che custodisci le case degli uomini pi accogliete questo stuolo femminile di supplici col soffio pietoso del paese e il fitto sciame dei maschi violenti i figli di egitto prima che metta piede su questa spiaggia ricacciatelo a largo con la nave veloce e lì periscano sul mare selvaggio in tempestose burrasche tuoni fulmini venti che portano pioggia prima di salire su letti proibiti dalla legge impadronendosi delle cugine contro la loro volontà se no noi stirpe nera bruciata dal sole andremo supplici dallo zeus dei morti impiccandoci se non avremo con noi gli dei dell'olimpo questo è il l'ingresso in scena idealmente di 50 fanciulle naturalmente in scena sono una dozzina che arrivano dall egitto quindi orientali non sono ma la percezione di queste barbare a cui immediatamente il re locale chiede che vestiti avete non è greca la foggia dei vostri abiti soprattutto non è greco il colore che hanno in viso perché sono scure alla sua terza tragedia forse tra quelle che possediamo eschi lo mette in scena un collettivo di donne nere ripeto la percezione è di barbare così vengono chiamate continuamente finché loro non si accreditano col re come loro cugine perché discendono anche loro da io cioè la progenitrice del di tutti i re di argo e non c'è niente che aiuti qualcuno che da asilo ad aiutare un profugo quanto il riconoscere elementi comuni fra lui e quello e questo dicono le fanciulle ma soprattutto dicono che loro fuggono da un matrimonio che non vogliono portare avanti esattamente dicono che loro arrivano e approdano sulla terra di grecia esuli barbare autogenei fixandria perché fuggono di loro volontà i maschi su questo guido paduano ha costruito un saggio negli anni passati in cui metteva in rilievo il fatto che per la prima volta il volere delle donne campeggia in questo caso all'ottavo verso della tragedia e determina l'intera tragedia le donne non vogliono questi maschi non è chiaro ed è discusso da millenni se non vogliono nessun maschio cioè se sia il rifiuto dell'eros in sé come quello di ippolito che non vuole nessuna femmina quindi non è chiaro se sia rifiuto dell'eros o se sia rifiuto di quei maschi i loro cugini sta di fatto che approdano e chiedono al re pelasgo di aiutarle aiutarle è insidioso come sempre quando qualcuno chiede asilio il rischio è che come accade nella tragedia da noi perduta nella seconda che si scateni una guerra alla fine argo accoglie queste giovani le protegge e gli egiziani portano guerra e vincono contro gli abitanti di argo ma tutto questo appartiene diciamo a un'altra fase quello che interessa noi e da una parte il fatto che sono vergini ma sono terribilmente minacciose e che in questi versi che ha letto sonia bergamasco affermano di maneggiare rami di supplici vuol dire anche pugnale ora non credo che sia casuale l'assonanza anche perché alla fine minacciano il suicidio se non verranno accolte e non verranno protette quindi ci sono due elementi apparentemente discordi la volontà di mantenere a tutti i costi la propria verginità fuggendo i maschi e la volontà di arrivare ora su un toys den keridiois può anche essere letto come noi stiamo qui con i rami supplici ma insomma il suono è ambivalente ma insomma di arrivare e nel caso migliore suicidarsi infatti per tre volte minacciano il suicidio appendersi a 50 cinture nella città di argo sarebbe stato un affronto religioso terribile ecco queste che nelle quali guido paduano vede il primo simbolo di quella che sarà la principessa verge di assassina cioè turandotte che infatti la principessa orientale nella nostra testa per eccellenza può essere una suggestione o può non essere accolta sta di fatto che questo meraviglioso e difficilissimo dramma quello che ci ha restituito Bergamasco è un prologo di una difficoltà mostruosa è però un testo che presenta a più livelli la difficoltà di essere esuli il rischio che si può assumere nel accogliere donne esuli e l'elemento di minaccia che esiste in qualunque dichiarazione o in qualunque bandiera anche estrema di volontà assoluta volontà di verginità come è questa delle supplici ora ripeto sono egiziane probabilmente alla lontana nate dai greci quindi non esattamente di orientali si tratta si tratta invece di orientali nella gamennone quando entra in scena la principessa cassandra che agamennone ha portato con sé da troia è la più bella e la più sfortunata delle figlie di priamo ecco come la accoglie sulla soglia la regina clitennestra entra su entra dico a te cassandra mandandoti in questa casa zeus è stato buono con te qui troverai compagni di schiavitù acque lustrali da condividere un altare a cui inginocchiarti scendi da quel carro da brava non sai che anche eracle un giorno fu venduto e dovete mangiare il pane dell'obbedienza se il destino ha fatto di te una preda di guerra si contenta di essere capitata in una casa di antica potenza i padroni divenuti grandi da poco trattano i vinti con ben maggiore durezza qui da noi invece nulla di ciò che ti spetta ti sarà negato non hai sentito la regina ti ha appena chiarito qual è la tua sorte sei in una rete senza scampo perciò obbedisci dammi retta ma quanto pare sto sprecando fiato a meno che non parli una lingua straniera sconosciuta inintellegibile come quella delle rondini le mie parole dovranno fare breccia in lei non potevo essere più equanime di così su seguila viste le circostanze è il miglior consiglio che possa darti alzati e vieni fuori da quel carro non ho tempo da perdere qui fuori con lei le vittime stanno già di fronte al grande altare pronte per il sacrificio per l'ultima volta muoviti e se non capisci quello che dico beh almeno parla gesti no fa segni con la mano come i selvaggi a quanto pare con la straniera ci vuole un buon interprete si comporta come un animale appena catturato questa donna è una pazza e un'illusa se crede di poter venire qui da una città da poco distrutta e di non accettare il morso e le briglie a costo di schiumare bava sanguinolenta giù dalla bocca ma ora finiamola mi sono già abbassata abbastanza non getterò al vento altre parole coraggio povera ragazza esci da quel carro adattati alla sorte accetta il nuovo gioco non ti parlo con ira vedi ma con compassione mio dio mio dio mio dio mio dio apollo apollo perché apollo non si deve invocare apollo fra grida di dolore mio dio mio dio mio dio apollo apollo di nuovo si rivolge al dio di nuovo queste grida che mettono i brividi ma perché invochi apollo non sai che le sofferenze umane non lo toccano appollo 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 come clitenestra è partita con corde suadenti perfino dolci nel momento in cui chiede a Cassandra concubina dicamè non è suo rivale in qualche maniera di scendere dal carro insiste poi si irrita perché l'altra non risponde in tutta questa scena Cassandra non apre bocca alla quarta domanda della regina a cui Cassandra non risponde arriva l'insulto della donna della regina occidentale alla principessa orientale perché pari sono come grado l'occidentale dice sei fortunata sei arrivata in una casa ricca però rispondi forse potresti rispondere a gesti come fanno i barbari o stridere come le rondini esattamente 80 versi dopo Cassandra Cassandra dice io parlo molto bene il greco c'è proprio una battuta che chiarisce che lei il greco lo sa e che non lo vuole usare contro quella che sta per ammazzarla perché lei vede il futuro poi c'è il mutismo di Cassandra c'è il coro che esorta questa fanciulla comunque a scendere dal cocchio nel frattempo la regina cheternestra è rientrata Cassandra è sola in scena e soltanto quando è sola in scena si abbandona alla sua invocazione ad Apollo e parte qui una scena molto lunga che è un po' un cavallo di battaglia per le attrici ma noi l'abbiamo negata a Bergamasco e che comunque a me quello che interessa è cercare di dire se vengono viste in un certo modo e se sono differenziate le principessi orientali la risposta è sì la prima attossa è unica in certi tratti così chiusa nel suo essere la padrona susa così chiusa in una mentalità dove lei non sa nemmeno che esistono i greci dove stanno ecco qua siamo di fronte a un chiaro episodio di pseudo razzismo insomma in cui la regina dice la principessa tu nemmeno sai parlare ma lei è connotata da un enorme orgoglio regale e finché Cassandra in scena lei non apre bocca e poi si abbandona a un progressivo Kant per Apollo e alle sue profezie che qui non possono avere spazio ma che comunque sono improntate a un lirismo quasi esasperato a tratti è una parte bellissima questa di Cassandra che ha in sé un abbandono verbale che non può non essere attribuito alla natura orientale di Cassandra è una concubina orientale anche chetecmessa nella Iacea di Sofocle e in Euripide molte sono le tragedie alcune come le troiane hanno solo principessi orientali in scena altre come Ecuba o Medea fanno vedere fino a che punto può arrivare la donna nella vendetta non ci sono momenti di vendetta così efferata nel mondo della tragedia greca come quella che consumano Ecuba cavando gli occhi al suo rivale ammazzandogli i bambini davanti e Medea arrivando all'infanticidio per vendetta io mi chiedo se sia casuale che le due vendette più crudeli femminili della tragedia greca siano affidate a due orientali Medea primo monologo Donne di Corinto sono uscita di casa così non potete criticarmi lo so bene ci sono persone superbe in pubblico in privato ma ci sono anche persone che per la loro riservatezza hanno acquisito la cattiva fama di una scarsa sensibilità non c'è giustizia negli occhi di chi guarda con odio un altro solo a vederlo prima di conoscerne bene l'animo senza aver ricevuto alcuna offesa certo chi viene da una terra straniera deve adattarsi alla città che l'accoglie ma non si può lodare il cittadino arrogante che per pura ignoranza è aggressivo verso i concittadini questa cosa che mi è successa all'improvviso mi ha rovinato la vita per me è finita ho perso la gioia di vivere desidero solo la morte lui che era tutto per me il mio sposo si è rivelato per quello che è il peggiore degli uomini lo so bene ora cari amiche noi donne siamo le più infelici fra tutte le creature che esistono e pensano per prima cosa dobbiamo comprarci a peso d'oro un marito che poi diventa dal padrone del nostro corpo e questo è senza dubbio il male peggiore e poi c'è un rischio enorme sarà buono o cattivo la separazione è un disonore per le donne ne possiamo rifiutare uno sposo se poi finisci in un luogo con usi e costumi del tutto nuovi per te devi essere un'indovina per capire come comportarti con il tuo compagno non lo hai imparato a casa tua se ci riesci e lo sposo sopporta bene la convivenza allora hai una vita invidiabile se no voglio morire quando l'uomo si stanca della compagnia di casa può uscire e placare così la noia di vivere noi donne invece abbiamo sempre davanti agli occhi la stessa persona dicono che viviamo in casa una vita priva di pericoli mentre loro vanno in guerra un ragionamento del tutto sbagliato io preferirei abbracciare mille volte e lo scudo piuttosto che partorire anche una sola volta ma in realtà per me per te la situazione non è certo la stessa questa è la tua città vivi nella casa paterna hai una vita comoda hai la compagnia dei tuoi cari io invece sono sola senza patria e subisco un'offesa da parte di un uomo che mi ha strappato via come una preda da una terra straniera non ho madre un fratello dei parenti da cui rifugiarmi in questo momento difficile per te ho un'unica richiesta se io trovassi mai un modo un sistema per far pagare al mio sposo tutto il male che mi ha fatto ti prego non dire una parola in genere una donna è piena di paure non ha il coraggio nemmeno di guardare un'arma ma quando è colpita nei suoi diritti di moglie all'animo più sanguinario di tutti verso l'alto risalgono le sorgenti dei fiumi sacri la giustizia inverte il suo corso e con lei tutto il mondo i maschi concepiscono inganni mentre perde di forza la fede negli dèi la mia vita avrà una svolta avrò gloria e fama e onore verrà alla stirpe delle donne non le colpirà più l'infamia le muse dei poeti più antichi smetteranno di cantare la nostra infedeltà il dio dei canti appollo non ci ha concesso il suono incantevole della lira altrimenti avremmo lanciato un canto antagonista contro la razza dei maschi il tempo con il suo lungo scorrere molto avrebbe da dire sulla sorte degli uomini e delle donne tu hai abbandonato la casa paterna con il cuore perso nella follia hai attraversato per mare le due rocce gemelle ora vivi in una terra straniera infelice hai perso il marito il letto nuziale sei un'esule scacciata da questa terra e hai perso il tuo onore è sparito il rispetto per i giuramenti la vergogna nella grande Grecia non esiste più si è dissolta nell'aria non hai più la casa paterna dove trovare riparo dalle tue sventure un'altra donna regna ora sul tuo letto sulla tua casa il primo era il monologo di Medea cosiddetto le donne corinzie spesso viene recitato allo specchio nel senso che verso se stessa poi c'era il coro che è il primo coro che porta a un livello collettivo la protesta sulla condizione femminile che Medea aveva fatto singolarmente pochi minuti prima ora non abbiamo molto tempo perché dobbiamo cercare di chiudere questa parte ma per trovare nella storia del teatro una protesta sulla condizione femminile di questa portata di questa profondità di questa violenza con la considerazione a noi donne Apollo non ha dato il canto della lira cioè non ci ha dato l'espressione artistica per arrivare a qualcosa di simile in teatro bisognerà arrivare a Ibsen e a casa di Bambola questo vale sia per la protesta singola di Medea per la sua condizione tre volte minoritaria esule donna e turca sia per il canto di tutte le donne che lamentano la propria impossibilità di avere uno strumento di comunicazione di arte e di espressione ora noi avremmo la andromaca ce la facciamo? che non vorrei facciamo la andromaca allora facciamo senza commenti tanto Eulipide in sostanza vede in Medea una donna orientale ma che vuole che l'uomo abbia una donna sola rovescia le cose e nell'andromaca pochi anni dopo scrive un pezzo in cui la donna greca Ermione che ha contro la concubina del marito cioè andromaca vorrebbe la monogamia viceversa andromaca dice che sono più amate dagli uomini e mi chiedo se sia voluto e mi rispondo di sì che sia messo in bocca un orientale sia più amate dagli uomini quando si consente loro la poligamia e che lei addirittura con Ettore offriva il proprio seno ai figli che il marito concepiva fuori del matrimonio questa è l'entrata della più odiosa fra tutte le eroine greche cioè Ermione te lo vedete lo spazzoso diadema d'oro che porto le vesti colorate che indosso non sono gioielli che ho preso qui non provengono dalla casa di Achille o di Peleo sono spartani un regalo di mio padre me ne lao e mi autorizzano a dire quello che mi pare e tu che sei una schiava una prigioniera di guerra tu vuoi diventare padrona in questa casa cacciarmi via i tuoi filtri mi hanno reso odiosa mio marito per colpa tua il mio ventre avvezzisce sterile sei un'asiatica e dunque molto abile in queste cose ma ora basta non ti serviranno né il sacrario dell'anereide né l'altare nel tempio morirai e se qualcuno fra i mortali e i celesti desidera salvarti dovrai scendere dal tuo piedistallo di superbia rannichiarti umilmente strisciare i miei piedi spazzarmi la casa versare con le tue manine acqua dalle mie brocche d'oro capire finalmente dove sei qui non ci sono più né Ettore né Priamo né le loro risorse è una città greca la nostra sciacurata sei tanto demente da andare a letto col figlio dell'uomo che ha ucciso tuo marito da generare figlia a un assassino ma già i barbari sono fatti così il padre si accoppia con la figlia il figlio con la madre il fratello con la sorella i parenti più stretti si ammazzano tra di loro e non c'è legge che lo vieti non pensare di introdurre fra noi usanze del genere non è bello che uno stesso uomo metta le redini a due donne no da noi chi non vuole vivere nella vergogna si accontenta e riserva la sua attenzione a un solo amore coniugale donna orientale quindi e qui chiudiamo andromaca nelle parole della principessa greca occidentale quindi le orientali sono incestuose si accoppiano come capita abbettono la poligamia sono barbare e pressoché eroticamente bestiale questa è una della serie di accuse che Ermione rivolge ad andromaca che a sua volta ribatte ma la tirata di andromaca è anche molto lunga dicendo in sintesi che quelle che fanno come Ermione che le donne greche così alla fine i mariti non se li tengono bene dalla tragedia passiamo verso la storia eh sì io lo so dunque essendo il tema il nostro il femminile tra occidente e oriente io ho pensato di parlare del femminile cercando di vederlo non dal punto di vista che è stato giustamente che è stato seguito fino a forse non lo è fino ora abbiamo sentito parlare del femminile attraverso le fonti greche e vorrei dire una parola proprio sull'ultimo per poi passare a quello che vorrei fare io che è qualcosa di diverso e vedere di leggere il femminile in fonti che non siano così pregiudiziali voglio dire nei confronti del femminile come le fonti greche vi dico subito qual è la fonte è un greco ma è un greco molto diverso dagli altri che è erodoto no volevo dire una sola parola a proposito di quest'ultimo discorso che avete dato su è stato fatto questo commento su Andromaca no? sì ecco in Andromaca io ho trovato c'è un punto bellissimo nel quale Andromaca si rivolge a Ermione che è gelosissima appunto di lei ha le sue ragioni dal suo punto di vista e cerca e cerca di convincerla che la gelosia è una brutta cosa e ciò pochissimi versi molto belli ai quali io do un'interpretazione mia che è molto diversa da quella però a me sembra che si possano leggere anche in questo modo dice ma tu fai molto male a essere gelosa di me quella non aveva avuto un figlio dal marito lei invece aveva dato un figlio no? naturalmente a Neottolemo al quale era stata d'appa dopo la morte di Ettore e dice ma tu sbagli a essere gelosa perché la gelosia è una cosa bruttissima la gelosia è una cosa bruttissima guarda e poi ci sono diversi bellissimi perché lei si rivolge direttamente come se parlasse con Ettore e dice e dice ma che lei è stata molto felice con Ettore noi siamo stati molto felici molto felici perché io ho fatto tutto quello che tu volevi e siamo sempre andati d'accordo e io sono arrivata al punto che quando tu mi portavi a casa i tuoi nozzoi io li allattavo al mio seno chi sono i nozzoi? i nozzoi sono i figli illegittimi come prova di massima di massimo amore coniugale beh lei cita il fatto di allattare i figli spuri che attenzione tu mi portavi in casa ma allude a una pratica che era normale in greca in grecia guardate che gli uomini avevano tutti le concubine tutti quasi tutti avevano delle concubine dalle quali avevano dei figli molto spesso queste concubine vivevano nella casa coniugale quindi la povera moglie greca aveva un marito che aveva delle donne che portava in casa le concubine lei e lei come moglie perfetta proprio perché amava il marito annotava addirittura le concubine lo porta come esempio di amore coniugale e io ho sempre pensato che in realtà descrivesse descrivesse quello che era quello che era e che doveva essere il matrimonio greco per una donna il matrimonio greco per una donna era quello il matrimonio era giusto era perfetto il matrimonio felice era quello e questo dà un'idea della povera della condizione secondo me delle povere donne griche che stavano veramente malissime nel loro paese per adesso usate questa questa parentesi questo inciso mi è venuto in mente ascoltando ascoltando il discorso di prima ecco io invece ho pensato di fare un disperstare e disperstare il punto di vista perché fino adesso il rapporto nostro è stato abbiamo sentito parlare della condizione delle donne greche alla luce delle fonti greche a me è venuto in mente di andare a cercare qualcuno che parlasse delle donne greche in un modo che non fosse pregiudiziale come naturalmente inevitabilmente era quello dei greci e chi poteva essere la persona alla quale pensavo un altro greco perché è nato anche cioè lui è nato al di Carnasso ma di fatto poi è un greco e questo altro greco non poteva essere che erodoto due parole su erodoto che devo dire a questo punto per forza erodoto era nato da una famiglia molto benestante in Caria cioè sulle coste appunto dell'Asia da madre greca e da padre locale invece la famiglia si era spostata per un certo periodo di tempo per ragioni politiche perché non ha mentre mentre erodoto apprezzava Artemisia come si vede del resto dalle sue fonti non apprezzava il figlio di lui che aveva tentato di instaurare un regime molto 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 duro e quindi la famiglia si è allontanata per un certo periodo di tempo dopodiché erodoto è tornato è tornato a vivere in patria quindi sulle coste dell'Asia ad Alicarnasso attorno ai 30 35 anni le notizie su erodoto non sono moltissime ma insomma sufficiente per dirci che torna e intraprende una serie di viaggi saposi viaggi che poi appunto ben conosciamo intraprende una serie di viaggi che fa tra l'altro certamente non per ragioni professionali non ne aveva bisogno la famiglia viene da una ricca famiglia non per ragioni commerciali non viaggia per il puro piacere di viaggiare cioè è stato qualcuno ha detto addirittura che è stato uno dei primi uno dei primi li chiamano travel travel writer i primi raccontatori di viaggi non è non lo è perché i cosiddetti travel writer poi parlano raccontano anche molto delle storie personali mentre lui non lo fa assolutamente lui è semplicemente io cerco di essere brevissima breve su questa parte perché come diciamo introduttiva il resto del discorso lui è quello che noi oggi chiamiamo un antropologo è una persona che viaggia per il puro lui per il puro piacere di viaggiare osservando guardando guardando tutto quello che accade diverso e guardandolo con uno sguardo veramente come vedremo molto molto particolare molto originale lui abbiamo visto anche che è di formazione molto mista poi l'ultima parte della sua vita la passa ad Atene diventa amica di Perico diventa un vero Atenese ma prima è una così come dire un personaggio vago appunto lo possiamo chiamare è un personaggio che non sappiamo esattamente quanto ma per molti anni gira per il semplice piacere di viaggiare e per conoscere no? quindi possiamo e soprattutto per notare le cose diverse quindi possiamo dire infatti è stato considerato il primo il padre dell'antropologia è un vero e proprio antropologo e allora essendo un vero e proprio antropologo racconta tutto quello che ha visto e racconta delle cose veramente molto singolari viaggia in oriente viaggia certamente in oriente non stiamo a cercare di seguire esattamente qual è il suo viaggio comunque viaggia ampiamente e per lunghi anni in oriente e quindi conosce e racconta appunto da antropologo qual è il primo antropologo riconosciuto come tale appunto dai primi antropologi racconta esattamente tutto quello che vede e racconta le abitudini di questi di questi personaggi che incontra attenzione è anche molto attento eh perché diciamo le sue fonti che cosa sono? le sue fonti sono le persone che incontra e lui dice anche quando ci sono delle persone che hanno opinioni diverse allora lui a volte prende posizione a favore dell'uno a favore dell'altro oppure qualche volta dice al lettore beh allora decidete voi perché io non so quindi è veramente molto obiettivo nel raccontare tutte queste vicende e racconta quindi racconta come era la vita la vita la vita delle popolazioni in particolare delle famiglie e i rapporti appunto della condizione la condizione femminile in questi paesi e racconta senza battere ciglio racconta cose completamente diverse impensabili per esempio dice i massaggetti beh ciascuno sposa una donna ma lo dispongono in comune quando uno di loro desidera una donna dopo aver appeso una dopo aver appeso la faretta davanti al suo carro si accoppia liberamente tutto e fa una serie di di questi esempi assolutamente per noi incredibile e potrebbe parlare dei nasamoni degli agatissi degli ausi di tutti questi popoli veramente e tra l'altro che non senza mai dare giudizi diciamo etici no sociali assolutamente con lo distacco totale dell'antropologo ecco ma tra le cose più interessanti che che ci sono sono le descrizioni di alcuni personaggi femminili che ero dato fa allora cominciamo solo due il primo è Tomiri qui siamo le storie di Erodoto attorno al 205 dunque sono sono siamo nel sesto secolo avanti Cristo no? quindi siamo in un paese dell'Iran settentrionale dove vivevano gli indiani massageti più o meno più o meno corrispondenti all'attuale Kazakistan ed erano governati attenzione governati da una donna di nome Tomiri vedova del presidente capo di quel governo che aveva un figlio maschio quando muore il marito Tomiri ha un figlio maschio ma chi è re del patrimonio la Basileia il termine questo è proprio lei lei quindi il potere presso i massageti attuali Kazakistan si trasmetteva in linea femminile non si trasmetteva in linea maschile questo è assolutamente chiaro Erodoto è più più che chiaro esplicito allora questa Tomiri era una donna molto bella molto ricca molto potente e anche molto coraggiosa e tra i suoi spasimanti c'era niente di meno che Ciro II re di Persia Ciro II che avrebbe voluto sposarla la chiede in moglie naturalmente Tomiri che è molto più furba di lui capisce che lui vuole il suo quello che vuole il potere allora gli scrive no prima gli dice di no immediatamente gli dice di no e allora questo che cosa fa per prima cosa invade il suo territorio invade il territorio dei massageti no e allora lei gli manda un messaggio e gli dice o re dei medi smetti di affatecarti non sai così non sai non sai non puoi sapere come si concluderà a mio o a tuo vantaggio questa storia smetti regna sui tuoi sudditi e accetta di vederci regnare sui nostri quindi una regina assolutamente equilibrata ma i suoi naturalmente i consiglieri dicono a Ciro II questo Ciro II che non deve assolutamente ascoltarla e infatti lui non l'ascolta e invade le sue terre e allora ecco lei che si risparcia e purtroppo accade un incidente un incidente per Tomiri perché durante la guerra che è appunto Ciro ha scatenato Ciro fa prigioniero Spargapise che è il figlio di Tomiri allora Tomiri lui lei manda un messaggio e gli dice Ciro insaziabile di sangue hai vinto mio figlio con un farmaco ingannevole e non con le armi lo aveva fatto bere ora ascoltami restituissimi mio figlio e te ne andrai da questa terra impunito ma se tu non lo farai giuro per il sole signore dei massaggetti che anche se sei insaziabile di sangue io ti sazierò donna come vedete chiare idee molto chiare Ciro non tiene assolutamente in conto questa minaccia soprattutto tutti gli dicono non la devi ascoltare e che cosa succede? succede che una sera siccome una sera concede a Spargapise che è il figlio di Tomiri gli slega un braccio lui aveva chiesto il piacere almeno di slegargli le braccia gliele slega e quello si suicida ed ecco a questo punto lei prima gli aveva chiesto di restituirlo gli aveva promesso la pace se non l'assoluta garanzia della fine della guerra ma quindi aveva rinunziato e allora dopo la morte del figlio che cosa fa? beh parte assale la Fanon assale Ciro II e Ciro II viene ucciso io vorrei farvi notare che viene ucciso da una donna non materialmente non al momento no? ma è l'esercito di una donna che uccide Ciro il Grande e scrive Erodoto quanto di queste quante guerre furono combattute dai barbari di quante di quante guerre furono combattute dai barbari io ritengo questa sia stata la più violenza dapprima si scagliavano dardi poi esaurite le armi da getto avventandosi gli uni contro gli altri combattevano corpo a corpo con le lance pugnali la maggior parte dei persiani venne ucciso e Ciro cadde dopo aver regnato 22 anni quindi Ciro ucciso da una donna dall'esercito di una donna però attenzione perché a Tomini questa Tomini aveva un carattere veramente particolare diciamo molto interessante perché non le bastava aver ucciso voleva adempiere gli aveva fatto una promessa gli aveva promesso che se non le avesse quando aveva chiesto l'istituzione del figlio e ha detto guarda che se non lo fai e lui morirà io mi sazierò del tuo sangue come tu ti sarai saziato del suo e allora dice e allora al termine della battaglia ha già vinto Ciro Ciro è morto manda a cercare il cadavere di Ciro e prepara una botte diciamo piena di sangue di un animale che ha fatto scuoiare come si dice non scuoiare uccidere scuolare a questo proposito e immerge il cadavere di Ciro la testa di Ciro in questo in questo in questo nel sangue e dice tu benché io sia viva e ti abbia vinto in battaglia tu mi hai uccisa eliminando mio figlio con l'inganno e io come ti avevo minacciato ti sazierò di sangue Erodoto aggiunge quanti questo fra i tanti racconti della fine di Ciro è il più degno di fede questo nelle storie 1.124 guardate questa donna questa è una donna realmente vissuta è una grande combattente ed è un personaggio interessantissimo perché è una grande combattente ma è nello stesso tempo una madre addolorata che arriva a fare e sanguinaria quindi è un personaggio assolutamente indescrivibile cioè basta spostare un attimo lo sguardo e andare a guardare fonti diverse che a volte si scoprono i fatti dei personaggi reali come questo assolutamente è un grande personaggio ecco e ce n'è se ho ancora qualche minuto ce n'è un'altra del quale anche penso che si dovrebbe parlare perché è non meno importante dal punto di vista dal punto di vista del quale ci stiamo occupando e cioè la possibilità dell'esistenza l'esistenza al di là della Grecia di donne completamente diverse radicalmente diverse dalle donne greche evidentemente no? altri mondi e parliamo di Artemisia e siamo nello stesso periodo di tempo erodoto sono i libri settimo e ottavo allora più o meno quindi al tempo stesso tempo in cui vive Tomeri c'è un'altra gonna che governa ed è Artemisia Artemisia era governava Alicarnasso e lo governava per corso di Cerse lei era una grande fedele di Cerse fedelissima di Cerse e quando naturalmente quando scoppia la guerra che cosa fa? beh Artemisia partecipa ma non è che vi partecipa solamente in quanto governava la sua città no vi partecipa combattendo come alleata di Cerse quindi dicevo non solo come politica di Alicarnasso ma anche battendosi in prima persona nella battaglia navale prima di Capo Artemisio dove naturalmente contro la collezione la collezione greca comandata da comandata da Atene la battaglia e la battaglia di Capo Artemisio e poi nella battaglia delle Termopili contemporaneamente e quindi nello stesso scusate quindi nello stesso sono la battaglia di Salamina non delle Termopili alla quale partecipa con cinque navi una delle quali viene guidata personalmente da lei e considerata la migliore di tutta la flotta persana e le corse della battaglia dà prova non solo di coraggio ma è anche astutissima perché a un certo punto sembrava profilarsi una vittoria dei greci possibile e perché una nave dei greci inseguiva la sua allora non potendo fuggire lei ordina di speronare affondandola una nave come come la sua alleata dei persiani inseguita da una nave greca che assistendo alla manovra pensa che anche la nave di Artemisia è greca e quindi cambia rotta consentendo a lei la fuga salvando la situazione salvando vincendo ecco allora comunque le sorti della guerra erano segnate no? perché come sappiamo sappiamo come finisce la battaglia di Salamina quando finisce Sesse che era arrivato ad Atene con l'esercito e tutta la flotta aveva chiesto ai capi no? perché prima arrivato ad Atene Cersei aveva chiesto ai suoi comandanti che cosa fare tutti gli avevano detto che assolutamente non doveva impegnarsi in una battaglia navale ed ecco quello che dice lei le parole di Artemisia riferisci al re da parte mia dice un altro consigliere di tenere in serbo le sue navi e di non impegnarsi in una battaglia sul mare i greci infatti sono molto più forti di noi quanto gli uomini sono più forti dei tuoi quanto gli uomini sono più i suoi uomini sono più forti quanto gli uomini sono più forti delle donne d'altronde che bisogno hai di combattere per mare hai già preso Atene quindi hai già vinto nessuno tutti i consiglieri sono con Serse vogliono assolutamente attaccare Salamina lei è l'unica naturalmente ha ragione lei sappiamo come va a finire bene la stima di Serse per Artemisia è tale che lui arriva a un certo punto e dice le mie donne sono diventate uomini e i miei uomini sono diventate donne e poi quando torna in patria diventa la sua consigliera più importante e affida tra l'altro lei l'educazione dei suoi figli allora cerchiamo cercando di concludere questo discorso che forse è stato un po' lungo ma c'erano tante cose da dire allora quello che mi ha colpito in tutto questo qui siamo di fronte a fatti storici attenzione non sono storie Tomini Artemisia sono non esistite veramente ecco e allora le dichiarazioni insomma le dichiarazioni la 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 le discriminazioni con fronte del genere femminile l'idea che le donne sono inferiori naturalmente inferiori beh da dove viene viene dalla Grecia sono i greci che hanno inventato questa storia dell'inferiorità delle donne in oriente la cosa non era così in oriente le donne erano come quelle ne abbiamo sentite due due personaggi storici abbiamo visto come si comportano quindi questa è una cosa un aspetto molto interessante molto interessante perché come si spiega questo fatto ma perché in Grecia perché i greci sto parlando dei greci quelli delle poleis no? ecco non sto parlando dei primi greci certo i greci in età i greci micenei quelli quelli sappiamo benissimo che ci sono stati alla fine attorno al 1200 finisce una prima Grecia che è la Grecia micenea che è una Grecia palaziale completamente diversa poi ci sono alcuni secoli chiamati oscuri e poi nasce la Grecia delle poleis e nella Grecia delle poleis nasce quest'idea teorizzata da tutti e poi solidificata come dire da Aristotele dell'inferiorità naturale delle donne e questo è un altro problema che mi sono posto e che ovviamente non penso di risolvere né di sottoporre però da dove nasce quando nasce questa idea credo che lo sapremo solo quando saranno continuati gli studi che continuano naturalmente stanno aumentando molto negli ultimi anni sono aumentati molto gli studi sugli anni cosiddetti oscuri cioè tra la fine della prima Grecia della Grecia micenea e la nascita delle poleis però una cosa è certa una cosa è certa che siccome stiamo parlando del femminile beh questa teoria della inferiorità del femminile la dobbiamo non certamente non certamente ai nostri antenati più orientali ma lo dobbiamo ai greci il che non significa che naturalmente noi non apprezziamo tutto quello che ci hanno dato dei grandi greci non li amiamo li amiamo lo stesso per questo ma lo dobbiamo a loro questa discriminazione lo dobbiamo a loro grazie